Anche nel secondo episodio mi manterrò sul pesce e vi cucinerò un'insalata di mare. Che ne dici, Dharma? Mettiamo la pentola dell'acqua a scaldare e portiamola ad ebollizione. Naturalmente mettiamo sale. Accendiamo e portiamo contro l'ebollizione. Copriamo chi fa prima. Parlo a bassa voce perché Mamma Sita dorme. Nel frattempo tagliamo in piccoli pezzi i totani che dobbiamo bollire. Ecco fatto, tutto ben tagliato. Adesso aspettiamo che l'acqua bolla e poi spatafasciamo tutto dentro. Ah, da non dimenticare, aggiungere un po' d'aceto. Ci siamo. Adesso prendiamo tutto il nostro pesciolino e lo buttiamo dentro. Però, sì, ma a me sa che qui faccio un casino. Adesso facciamo cuocere per circa sei minuti. E' un piatto velocissimo e gustosissimo. Ok, ci siamo. Adesso impiattiamo. Ora, con la schiumarola, andiamo a distribuire nel piatto il nostro pezziolino. Aggiungiamo due scozzettine di limone. Aggiungiamo un filo d'olio. Ed ecco qua. La mia insalata di mare. Sembra buona, no? No. Te mangi i croccantini. Aggiungato. E' un rio. Grazie a tutti.